Tornando invece al tema, si stava parlando dei writer, no? A te è mai capitato di realizzare dei disegni, delle opere, dei grafiti sui muri? Beh, personalmente no, però l'artista al quale mi sono affidato per l'artistico di questo disco è un vittore che precedentemente era un writer. Marcia, marcia, ti devo interrompere un attimo perché è tutta la vita che sogno di fare questa cosa perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci vediamo tra pochissimi.